Ah 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 Sport e imprenditoria viaggiano insieme nel nome di Ovidio a portare avanti quest'iniziativa nell'anno del bimillenario è l'ASD sul Monese Gas che ha presentato le nuove divise con il logo Ovidio 2017 L'iniziativa è dell'architetto Tonino Angelone, presidente della società ciclistica e titolare dell'impresa di edilizia Gruppo Autotrasporti Sulmona, che ha inteso festeggiare l'evento in una serata con tutti i portacolori della squadra. È l'occasione per stare tutti quanti insieme con tutte le persone che ormai da dieci anni continuano a correre con la nostra divisa e quindi per me è un orgoglio sapere che il nostro logo gira per tutta l'Abruzzo e in alcune circostanze anche al di fuori del nostro territorio. Abbiamo messo una novità proprio perché è l'anno del biminenario e sulla nostra divisa c'è il logo del nostro poeta Ovidio, un'opportunità appunto di unire sport, cultura e imprenditoria. La presentazione è avvenuta nel Meeting Garden, la nuova area piscine e giardini dell'hotel Meeting Santa Croce opera proprio della ditta gas. Quando si fanno queste iniziative sportive è sempre un piacere, in quanto è uno sport che si sta affermando sempre di più, qua nel territorio. Presente l'amministrazione comunale con il sindaco Anna Maria Cassini e l'assessore allo sport Mario Sinibati. Un momento molto importante per valorizzare questo territorio, è il momento bellissimo che la nostra città sta vivendo durante il bimillenario, pubblicizzando anche il marchio che ha contraddistinto tutte le manifestazioni. Un mio grazie all'architetto Angelone che ha portato avanti questa iniziativa, che sicuramente è un buon esempio a cui invito gli altri sulmonesi a seguire. L'assessore Sinibaldi ha rivolto un plauso all'architetto Angelone ritenendo fondamentale la collaborazione degli imprenditori con l'azione amministrativa. È un aspetto molto importante per l'amministrazione perché va magari in alcuni casi anche a coprire alcune lacune che noi inevitabilmente abbiamo anche per la risrettezza dei bilanci comunali. Quindi questi sono atti molto importanti perché rappresentano anche un momento di amore dell'imprenditoria verso la città e verso tutte quelle che sono le forme di aggregazione spontanea e più vere del vivere insieme. A proposito di imprenditoria locale, tra i vari ospiti intervenuti, Mario Pelino dell'altra società ciclistica SD Confetti Pelino, che ha elogiato la disciplina del ciclismo come veicolo importante per la promozione della città. Il ciclismo è uno sport diffusissimo e tante persone vengono a Sulmona a fare il ciclismo, scoprono le nostre zone, quindi è anche importante per il turismo. Quindi noi ci crediamo tanto, sia come attività sportiva ma anche perché è importante per la città e per il nostro territorio. E quindi chiunque investe in questo sport investe anche sul nostro territorio. La serata ha rappresentato anche un tuffo nel passato, grazie alla presenza di corridori non più giovanissimi della storica squadra della Polar, come l'attuale sindaco di Castelvecchio Subequo, Pietro Salutari. Questa sera qui vedo tantissime persone che ci portano lontano con i ricordi, tra cui Tonino e il papà che ci accompagnava sempre nelle gare. Parliamo del 1968 e del 1969, ormai sono quasi 50 anni. Naturalmente con Carlo abbiamo avuto tantissimi momenti, tantissimi successi perché allora la società Polar era una società di Sulmona molto qualificata perché rappresentava tantissime categorie, dagli eserdienti fino ai dilettanti. Era una società che ha avuto delle grandissime soddisfazioni, che oggi noi vorremmo cercare di riproporre con i giovani e magari siamo anche a disposizione per eventuali iniziative del genere. Ho ripreso la bici quest'anno, la sto mettendo tutta per fare anche qualche gara, me la sento, sento ancora le gambe che vanno, quindi ci voglio riprovare. Per me è un onore rivederli qui correre con la nostra divisa. Ho ancora foto storiche nel mio studio quando mio padre appunto li accompagnava giovanissimi a vincere su tutte le strade dell'Abruzzo e anche interregionale. Adesso vederli qui, continuare a indossare la maglia della nostra azienda per me mi inorgoglisce e mi fa enormemente piacere. Quindi li ringrazio a nome mio e di mio padre che in questi giorni non c'è fuori per ferie e quindi non è potuto. Ma conosce benissimo questi due atleti che gli hanno dato tantissime soddisfazioni nel passato. Grazie. Grazie.